Questa è una centrale a ciclo combinato di elevatissima efficienza, qui si raggiunge un'efficienza del 58%, cioè vuol dire che si riesce ad utilizzare il 58% del contenuto energetico del gas, che va confrontato contro valori che si attestano attorno al 40% rispetto alle centrali tradizionali. Utilizza gas naturale, quindi le emissioni sono per loro natura molto contenute, non ci sono emissioni di polveri sottili e in più utilizza un sistema di combustione talmente avanzato che riduce anche l'emissione di ossidi di azoto e di ossidi di carbonio a livelli veramente bassi. Altro elemento di grande importanza è la flessibilità dell'impianto, che questa centrale è in grado di variare il proprio carico da zero al massimo, quindi a 800 MW in poco più di un'ora, e questo ha consentito e consente l'ingresso di grandi quantità di produzioni da fonti rinnovabili, in quanto riesce a bilanciare la fonte rinnovabile non programmabile, che per sua natura non è programmabile. Oltre a questo l'impatto è ridotto al minimo anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse idriche. Diciamo che il consumo di acqua di questa centrale è pari al consumo di acqua che avrebbe una coltivazione di grano sulla stessa superficie, quindi stiamo parlando di consumi ridotti e inferiori a quelli agricoli. Inoltre, come si può vedere dall'immagine, vi è stata data una grande attenzione agli aspetti di tipo architettonico, per cui una bella centrale che inserisce in modo molto armonico nell'ambiente.